In Puglia sono state 6040, secondo i dati ufficiali del MIUR, le domande di assunzione per le cattedre della buona scuola. In pratica il 30% dei docenti pugliesi ha rinunciato, scoraggiato dalla lotteria delle assunzioni. Claudio Menga, segretario regionale della CGL Scuola, commenta Possiamo stimare che il 30% dei docenti aventi diritto abbia rinunciato alla lotteria della buona scuola, visto che il governo, purtroppo, ha scelto di trasformare un'opportunità lavorativa in un ricatto. Eppure, solo nella scuola dell'infanzia in Puglia servirebbero da 150 a 200 docenti in più per garantire un livello di prestazione socialmente paragonabile alle regioni del nord. Senza contare, aggiunge Menga, la scarsità di classi a tempo pieno e le richieste delle famiglie che restano in evase, così come l'alta dispersione scolastica. Ci stanno condannando ad una rappresentazione del sistema scolastico pugliese bloccata sul modello attuale, fatto di povertà formativa che resterà strutturalmente in ritardo rispetto al nord. Molto critico anche Roberto Calienno, coordinatore della CISL Scuola Puglia, a chi andranno i 280 posti rimasti vacanti in Puglia. Presumibilmente non ai pugliesi, perché il sistema informatico darà precedenza ai vincitori di concorso e non ai precari storici. In Puglia, infatti, sono rimaste soltanto 44 persone nelle graduatorie di merito che vengono dai concorsi, ma fra loro sono pochi quelli appartenenti alle classi di concorso per cui c'è capienza. Da dove verranno allora, chiede il sindacalista.